buon pomeriggio a tutti voi cari frequentatori di zone non particolarmente illuminate anche oggi un brutto caso di cronaca nera è pronto per essere raccontato quindi vi invito a mettervi comodi e drizzare le antenne ultimamente siamo rimasti sempre in italia ed anche oggi non andrà diversamente prima di iniziare però vi invito a mettere un like preventivo in segno di fiducia e innata generosità oltre ad iscrivervi al canale se è la prima volta che passate da queste parti siamo a roma sabato 20 ottobre 1984 dopo un 1983 decisamente poco felice per la capitale la lista delle adolescenti romane inghiottite della città è destinata purtroppo ad allungarsi stefania bini 16 anni esce di casa per andare a scuola come ogni mattina sono circa le otto quando arriva alla fermata dell'autobus la ragazza abita in via girolamo vitelli all'aurelio e deve arrivare al liceo d'anti alighieri dove frequenta il primo anno del classico nella sua cartella oltre agli immancabili libri stefania ha pure 20.000 lire nel ricavato di una colletta scolastica e tiene lei perché è una ragazza seria e affidabile insomma tutti i compagni di classe si fidano di lei alla fermata quel giorno arriva qualche minuto prima del solito ed è sola quindi non le rimane che attendere l'arrivo del mezzo con la cartella sulle spalle non pare una giornata molto diversa dalle altre purtroppo però lo sarà passano appena una manciata di secondi e da lei si accosta un furgoncino dal finestrino un uomo le dice alcune parole stefania apre la portiera e monta sul furgone che si allontana lentamente quella sera stessa mauro bini il padre di stefania denuncia la scomparsa di sua figlia perché la ragazza non farà mai ritorno a casa quel giorno indossava una gonna nera e un golf a collo alto di colore giallo polizia e squadra mobile iniziarono subito a indagare sulla vicenda un caso che sin da subito verrà catalogato come possibile rapimento come ho detto stefania è salita volontariamente su quel furgone e il motivo è molto semplice il conducente gli ha detto che quel giorno l'avrebbe portata da vittoria sua cugina l'uomo che la invita a salire è suo zio mario ex marito della zia un parente acquisito che l'ha tenuta in braccio quando è nata anche se le due famiglie non si frequentavano più molto dopo la separazione mario squillaro 51 anni originario di salerno ha una bottega in via sessoriana è un ciabattino e dietro il negozio c'è casa sua 30 metri quadrati che divide con la nuova compagna e un figlio avuto dalla donna a sette anni l'hanno chiamato mario come il padre anche se a dire il vero non l'ha riconosciuto l'ho chiamata a casa ma in realtà si tratta più di un sottoscala poco illuminato quando lo zio e stefania arrivano non li vede nessuno e quel sabato in realtà l'appartamento è vuoto il figlio è fuori città insieme alla madre a festeggiare il suo compleanno ma la ragazzina non lo sa e non sa che neppure la cugina vittoria in casa lei è stata soltanto l'esca con la quale mario l'ha convinta ad andare da lui stefania è tranquilla pensa che chiameranno sua madre per avvisarla si accomoda nel piccolo salone e aspetta ma passano ore senza che nulla accada e senza che nessuno si faccia vivo lo zio continua a dirle che sua cugina arriverà ma lei ovviamente si nervosisce quando chiede di avvisare i suoi genitori capisce che qualcosa non va mario le risponde che non può chiamare deve aspettare deve restare lì buona poi non potendo più nascondere la realtà delle cose confessa che sua figlia non arriverà non sa neanche che stefania si trova lì in verità non lo sa nessuno e nessuno deve saperlo stefania comincia ad avere paura piange e si dispera davanti a quello zio che impassibile non si lascia impietosire cerca di scappare si ribella strappa anche una tenda nella speranza di attirare l'attenzione di qualcuno ma nessuno la sente e alla fine si arrende lo asseconda e scrive un messaggio per i genitori poi esausta impaurita si addormenta sulla poltrona del salotto lo zio a quel punto è soddisfatto l'ha rapita ed è stato tutto piuttosto semplice una nuova vita è dietro l'angolo almeno così immagina è stato facile in fondo chiederà un riscatto a rate per facilitare il pagamento e con i soldi potrà comprare un terreno vicino a roma e trasferire lì tutta la famiglia tuttavia il ciabattino non ha programmato tutto nei minimi dettagli la ragazzina una volta liberata potrebbe parlare dire che era lui il rapitore anzi sicuramente lo avrebbe fatto e non ci sarebbe voluto neppure un genio per prevederlo questo purtroppo porterà ad eventi ancora peggiori di quanto appena raccontato dopo la denuncia della scomparsa le ricerche hanno inizio il padre di stefania non è particolarmente ricco tuttavia la famiglia è benestante in quanto proprietaria di un negozio di alimentari per gli inquirenti come detto anche se nessuno ha ancora chiesto il riscatto si tratta con ogni probabilità di un rapimento una seconda ipotesi è la breve fuga forse la studentessa quel giorno non voleva andare a scuola per paura di qualche interrogazione ma stefania è tra le più brave della sua classe dunque anche questa è una pista che lascia il tempo che trova passano due mesi dalla scomparsa della ragazza nessuna traccia fino a quando in casa bini arriva una lettera stefania è viva preparate 600 milioni potrete pagarli a rate il messaggio è scritto con le lettere di un giornale incollate una vicina all'altra non senza alcuni errori di ortografia si pensa che a rapirla sia stato qualche straniero magari una banda di turchi che aveva messo su una tratta di ragazze bianche si teme anche che la scomparsa di stefania possa legarsi inesorabilmente al destino in fausto di emmanuele orlandi alla polizia però qualcosa non torna soprattutto perché i rapitori chiedono un riscatto a rate e a quella lettera ne seguono altre due e l'ultima sembra scritta addirittura da stefania poi arrivano delle strane telefonate in casa bini dall'altra parte della cornetta parla un uomo con l'accento straniero dice che stefania è viva e che se pagheranno il riscatto rivedranno la figlia gli investigatori senza dire nulla alla famiglia analizzano le telefonate scoprono che ad averle fatte in realtà è un italiano che camuffa l'accento straniero in modo quasi fantoziano e le indagini prendono dunque un'altra direzione torniamo però un attimo indietro nel tempo alla data del rapimento quella notte si scatena un violento temporale in città continua a piovere a dirotto sui tetti e sulle strade che si preparano all'inverno stefania dorme mentre l'uomo che l'ha rapita prende una decisione impugna la sua pistola una browning in silenzio si avvicina e le appoggia la canna della pistola dietro l'orecchio destro ancora un fulmine mario aspetta il tuono e poi spara i due rumori si sovrappongono e stefania muore nel sonno su una vecchia poltrona adesso c'è un cadavere da far sparire e in piena notte l'assassino piccona e scava nel pavimento di casa poi imballa il corpo e lo cala nel buco appena scavato dentro un baule per tutto il giorno successivo piastrella incolla la moquette e sopra il buco appena fatto nel pavimento mette il suo letto alla compagna vincenza dirà che la moquette è un regalo a suo rientro le racconta che durante la sua assenza hanno rapito sua nipote stefania che lui non sa chi sia stato ma che possono approfittarne lei sulle prime non è convinta e non sa che da quel giorno dormirà sopra il corpo della ragazzina lui insiste le mostra un futuro diverso con 600 milioni possono rifarsi una vita la donna è però ancora titubante allora per convincerla mario prende la pistola con cui ha ucciso la nipote e gliela punta la testa una gentile esortazione ad aiutarlo e così vincenza di novi scrive e invia la prima lettera ai genitori di stefania ancora qualche settimana e scrive la seconda lettera e infine spediscono la terza quella che sembra scritta dalla stessa ragazza tutte e tre le lettere vengono scritte su fogli strappati dal diario di scuola della ragazzina spedite da cività vecchia e perugia mentre una la lasciano sotto la saracinesca del negozio di mauro bini passano mesi dalla scomparsa di stefania e in casa sua si stringono parenti e amici gli investigatori iniziano a pensare che il rapitore si nasconde tra loro su tutti proprio lo zio mario che più passa il tempo e più si riconquista la fiducia di quella famiglia da cui si era allontanato e in qualche modo li convince che lui è in grado di parlare con i rapitori addirittura dice che è in contatto con loro che sono ad ancara e che si sono accordati per 40 milioni di lire come anticipo sul riscatto l'appuntamento con i genitori di stefania è fissato per il 13 agosto al bar baita in via veneto e mario assicura che nell'accordo è prevista la liberazione della ragazza nel bar insieme a loro ci sono anche due poliziotti in borghese subito dopo lo scambio dei soldi mario viene fermato e accompagnato negli uffici della polizia interrogato prima nega tutto poi dice di aver solo tentato una truffa ai danni dei parenti successivamente ammette di aver fatto scrivere i messaggi alla sua convivente ma di non sapere nulla in merito alla scomparsa di stefania lui voleva soltanto sfruttare la situazione peccato che come detto le lettere erano state scritte sui fogli del diario della ragazza e quando gli inquirenti gli chiedono come faceva ad averli mario squillaro crolla e confessa tutta la verità ha ucciso la nipote ha scavato una buca nel pavimento l'ha messa dentro un baule verde dopo averla avvolta in una busta poi ha versato del cemento e ha coperto tutto con la moquette la sua compagna non c'era era a salerno al suo rientro le ha fatto credere che volesse solo approfittarsi della situazione e l'ha costretta a scrivere le lettere nel cuore della notte i poliziotti si recano in via assessoriana la donna viene arrestata e il figlio affidato ai servizi sociali poi scavano e trovano il baule dentro c'è un corpo in avanzato stato di decomposizione il corpo di stefania sono passati 9 mesi e 24 giorni dalla sua scomparsa è l'alba del 14 agosto del 1985 quando i resti del suo corpo vengono recuperati interrogato nuovamente mario squillaro racconta che aveva pensato di rapire la ragazza un mese prima ma che le sue azioni di quel giorno non erano state programmate quella mattina passava di lì per caso e l'aveva vista decidendo che quello fosse il momento buono mario confessa anche di averla ammazzata nel sonno e che lei non ha sofferto che l'ha fatto per i soldi e che non l'ha violentata sarà impossibile per i medici legali capire se stefania abbia effettivamente subito violenza prima di essere uccisa il 2 giugno del 1987 squillaro viene comunque condannato alla pena dell'ergastolo per vincenza di 9 invece sono 8 gli anni di carcere per concorso in estorsione il ritrovamento del corpo di stefania bini seppellito sotto il letto sconvolge la città che anche a distanza di molti anni non ha mai dimenticato la vicenda in particolare c'è una chiesa nel cuore di roma sant'ambrogio sull'aurelia e su una delle arcate vicino all'altare don angelo malatesta ha fatto dipingere un angelo tra gli angeli con il volto di stefania e per la ghiacciante caso di oggi è tutto una famiglia distrutta a causa di un ex membro della stessa una giovane ragazza uccisa da una persona della quale si fidava tutto per viglia e denaro io vi ringrazio per l'ascolto vi do appuntamento ai prossimi video sperando di ritrovarvi da queste parti restate in zona